Storie di pagine dipinte, una mostra dedicata alla ricerca nel senso criminalistico ma anche nel senso scientifico. Effettivamente c'è una collaborazione tra le Gallerie degli Uffizi con l'Arma dei Carabinieri, il Comando Tutela Patrimonio Culturale, ma in questo caso anche con l'Università di Firenze, con la professoressa Sonia Chiodo, esperta nel campo della miniatura medievale. Questi fogli raccontano tante storie di santi, storie religiose, ma raccontano anche storie dei libri stessi che furono creati attraverso il periodo medievale e rinascimentale e poi avevano una storia anche nei secoli successivi fino ai recenti furti e ricuperi. Quindi un grande impegno per la conoscenza, per la tutela di questi cimeli che si trovano sul territorio. È molto importante che qui abbiamo opere che vengono dal territorio e che vengono oggi conservate sul territorio, ma vengono riuniti qui per la mostra, per valorizzarli, per farli vedere insieme. Quindi possiamo vedere e leggere tutta una serie di narrazioni, quella più letterale, che è quella raccontata attraverso le miniature all'interno dei codici. Poi quella di questi libri stessi, e quindi la storia dell'arte, la storia della codicologia. Poi la terza storia è quella criminalistica, quella del giallo del recupero. Oggi festeggiamo il recupero di queste quarantina di opere che vengono messi qui insieme e che vanno dal Medioevo fino a un libro commissionato per leone decimo e quindi abbiamo anche una connessione con la grande mostra di Roma di Raffaello che è stata riaperta per quest'estate. Grazie.